Io direi a questo punto di dare la parola a Fabio Licata che è proprio uno di questi amanti del settore perché ha iniziato già negli anni 90 quando era ragazzino, adulto, magistrato e poi è tornato alle misure di prevenzione da circa 4-5 anni, mi pare che lavori al Tribunale della Prevenzione di Palermo. Ma io inizierei però da un punto che è stato anche toccato dal dottore Sabelli siccome il dottore Licata ha partecipato ai lavori della Commissione Ministeriale preseduta da Giovanni Fiandaca cerchiamo di andare un po' più a fondo sulla questione compatibilità del nostro sistema rispetto a quello che sta accadendo in Europa senza però invadere il campo di Anna Maria e qual è stata la risposta che si è cercato di dare in Commissione Fiandaca. Grazie Costantino, anzitutto grazie per essere stato l'anima di questa iniziativa che è veramente caffè pagato ma che veramente ci ha costretti a un momento di riflessione sulle cose concrete per cercare di metterle al frutto al di là di quelli che sono gli argomenti troppo parlati perché un punto di partenza è che il contrasto ai patrimoni, il contrasto alle economie criminali è una di quelle cose di cui si sente parlare da sempre, da tempo. la Presidente Bindi oggi diceva che 416 terre se ne parla da vent'anni anche di questo se ne parla in cui però sembra che non ci siano passini avanti si parla solo di cifre ballerine, 60 miliardi, io ho sequestrato tanto, tu hai fatto tanto quel corpo di polizia ha fatto tanto, quell'altro ha fatto così invece dietro a quello che appare c'è una realtà che finalmente grazie a iniziative come queste sta cominciando ad emergere un'attività che è stata fatta nel nostro paese seria che sta cominciando a emergere e che sicuramente non è quanto di meglio si poteva fare sicuramente deve, non può, deve essere migliorata e le iniziative come la Commissione Fiandaca di qui a poco ci andremo come anche la Commissione Garofoli hanno fatto delle proposte in questo senso però la verità è che va detto che ci si accorge che in Italia ci sono in campo degli strumenti seri, degli strumenti nuovi per, anzi non nuovi, anzi antichi direbbe nuovi ma col cuore antico di contrasto alle forme moderne di pericolosità dell'economia criminale che meritano di essere studiati e migliorati tante cose le facciamo nel nostro paese e dicono ah è l'Europa che ce lo chiede, miglioriamo le carceri, è l'Europa che ce lo chiede combattiamo la corruzione, è l'Europa che ce lo chiede ma quante cose ci chiede questa Europa quando proprio su questo campo in realtà il nostro paese può e deve vantare un primato che è quello di avere intuito quando ancora di lotta ai patrimoni, alle economie criminali come fenomeno globale, se ne parlava soltanto nei libri di qualche sociologo negli anni 80, grazie all'intuizione di Piola Torre, all'intuizione del legislatore di allora ci si è resi conto di una cosa, che l'economia criminale non può e non deve essere combattuta soltanto sul piano sanzionatorio, sul classico piano sanzionatorio penale anzi, forse c'ho il professore Fiandaga che mi guarda quindi temo forse però senza dire un'eresia probabilmente questo è un campo in cui il piano sanzionatorio penale deve restare come residuo, come estrema razio come elemento di punizione di quelle condotte che poi effettivamente vanno a essere individuate altra cosa è incidere sulla pericolosità delle economie criminali sulla infiltrazione, sulla capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali perché come abbiamo sentito anche stamattina e come ci insegnano i professori di diritto penale e come ci insegna la giurisprudenza, le condotte spesso sono difficili da cogliere, da individuare da circoscrivere dal punto di vista legislativo e da sanzionare e allora l'intuizione è stata quella non possiamo colpire quello che è un fenomeno quello dell'infiltrazione delle economie illecite nel circuito economico lecito è quello, perché sono due cose, è quello invece del riciclaggio, del reinvestimento in attività lecite che mette a frutto i risultati delle organizzazioni criminali con il modello penalistico cerchiamo dei modelli nuovi di semplificazione probatoria allora negli anni 80 il modello nuovo è stato l'inversione dell'onore della prova tu mi devi dimostrare, sei pericoloso, sei pericoloso semplice, sei pericoloso qualificato scusate, sei pericoloso perché rientri nel modello di coloro che sono sottoponibili a misura di prevenzione personale tralascio ovviamente, do per scontato cosa sono le misure di prevenzione personale allora giustificami il patrimonio che è sproporzionato rispetto alla tua apparenza economica lecita questa semplice intuizione che sembra semplice in realtà è il cuore di tutto quello che adesso viene sviluppato a livello di dibattito dottrinale, sociologico oggi in Italia è stato detto e praticato 30 anni fa e in questi 30 anni c'è stata una giurisprudenza che su quel principio ha lavorato, ha ottenuto dei risultati che vedremo adesso vanno crescendo perché c'è stata una crescita geometrica dell'applicazione delle misure di prevenzione con un'accelerazione spaventosa in questi ultimi 4-5 anni questo principio è stato praticato e per tanto tempo anche dai salotti buoni dell'antimafia è stato un po' snobbato, questo va detto, cioè il mondo della prevenzione patrimoniale era visto come, io mi ricordo nel 1995, nel 94 anzi quando ho iniziato a fare il giudice della prevenzione diceva beh, non lo voleva fare nessuno, in procura della Repubblica nessuno voleva fare giudici nessuno lo voleva fare perché era considerato una materia tecnica una materia camurrusa detta in siciliano e allora non c'era questo tipo di cultura perché poi tutto sommato su che cosa bisognava incidere io faccio un esempio, bello, giusto nel 1995 si trattava di sequestrare e confiscare la casa dei centopassi di Tano Badalamenti col meccanismo semplice della sproporzione perché Tano Badalamenti, Totorrino e tutti gli altri ovviamente con i loro diretti prestanome non potevano giustificare la disponibilità di questi immobili ma l'obiettivo è quello, giusto, va bene si deve essere simbolico, si deve confiscare e sequestrare questo gli obiettivi sono altri allora, gli obiettivi sono altri ricominciamo a costruire un paradigma serio affidabile di individuazione di strumenti di dimostrazione di questo benedetto fenomeno dell'infiltrazione dell'economia criminale agganciato a un altro fenomeno per cui sempre tutti i professori di diritto penale giustamente si rizzano tutti i capelli il problema della pericolosità in diritto penale il concetto della pericolosità è un concetto pericolosissimo altro invece se lo trasferiamo in altri ambiti in altri ambiti in cui non si deve colpire ricordiamolo la libertà personale ma si deve incidere sulla disponibilità patrimoniale quindi sul diritto di proprietà da un lato e sulla libera iniziativa economica dall'altro libera iniziativa economica che leggiamo libera iniziativa economica libera e legale aggiungiamoci che anche se non c'è scritto nella Costituzione è ovvio che è un sottointeso i tribunali in questi anni hanno cercato di elaborare una giurisprudenza sulla scarna sullo scarno armamentario delle misure di prevenzione che dicevano superiamo questo concetto e si è costruita in questi anni un giusto processo di prevenzione si è costruito perché chiunque si legga i decreti di confisca che riguardano patrimoni seri in questi ultimi anni troverà dei decreti motivati tanto quanto proprio tanto quanto delle sentenze e vabbè come non sempre le sentenze sono buone no e non è che ci sono sentenze buone sentenze cattive tu che le annoti lo sai meglio di me si sono costruiti dei principi fondamentali sugli accertamenti patrimoniali sui poteri di ufficio del tribunale sul collegamento tra gestione dei beni sequestrati e elementi di interesse probatorio che emergono da questa gestione cioè ci sono tanti elementi è un processo che va costruito sensibilità che si è andata evolvendo di pari passa a cosa abbiamo assistito a un bisogno di prevenzione invece nel salotto buono dell'Europa nel mondo anglosassone nella cultura delle garanzie e dei diritti noi assistiamo alla necessità di intervenire su questo perché pure nel mondo anglosassone di condanne per riciclaggio ce ne sono poche pure nel mondo anglosassone appunto le norme sul riciclaggio sono più norme bandiera che norme che incidono nel mondo anglosassone nei salotti buoni dell'economia si incide realmente con iniziative prevenzionistiche oggi il dipartimento di giustizia americano il National Crime Agency ora del Regno Unito vecchio Sirius Crime Agency che cosa fa? fa delle indagini patrimoniali su grosse entità finanziarie e dice tu io ti sto indagando per corruzione o ti sto indagando per riciclaggio stiamo parlando di colossi come HSBC la più grossa banca del mondo praticamente Siemens e quant'altro dice guarda io o ti indago oppure tu collabori con me nel bonificarti nel prevenire prevenire certe condotte e fanno un bel patteggiamento HSBC ha pagato 500 milioni di sterline di multa ha cambiato il consiglio di amministrazione ha buttato fuori l'amministratore e il delegato ci ricominciamo da capo non c'è stato un solo giorno di udienza è garantismo non lo so però pragmatismo anglosassone noi abbiamo la nostra strada su cui stiamo lavorando ha lavorato la giurisprudenza che ha costruito oggi per esempio sulla sproporzione si sequestra e confisca sempre di meno oggi lo sforzo degli investigatori lo sforzo dei tribunali è quello di motivare sequestri e confische su una composizione ragionata di elementi che derivano dalle indagini penali e su una specializzazione su una lettura specializzata di questi di questi elementi che ti consente proprio di provare quel fenomeno fornendo chi viene preso di mira delle dovute garanzie a vari livelli perché non dobbiamo scordarci che appunto una cosa è l'infiltrazione che ha vari aspetti complessi di cui magari parleremo più avanti e su questo la commissione fiandaca ha fatto una proposta specifica su cui magari si parlerà dopo per adesso la metto da parte ma si è lavorato pure sostanzialmente prendendo mutuando quella che è il patrimonio dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale per la costruzione di un modello di contraddittorio di giusto contraddittorio il termine di giusto processo magari può sembrare troppo penalistico perché sono state fatte tutta una serie di proposte che riguardano i poteri dell'autorità proponente la costruzione di un modello di investigazione moderna perché una cosa andiamoci per punti va segnalato che l'ho detto ora non lo vedo però l'ha detto Gaetano Paci in un convegno di recente il grande assente del processo di prevenzione senza voler togliere nulla alla prevenzione è il pubblico ministero è il pubblico ministero perché manca una manca perché ma non perché non lo vuole fare o perché non ci sono pubblici ministeri bravi perché il pubblico ministero di prevenzione non ha gli strumenti normativi adeguati per fare delle indagini incisive per coordinare la attività delle varie forze di polizia che lavorano su questo tema e per produrre delle richieste sostenibili nel dialogo virtuoso col tribunale supplisce ahimè il tribunale d'ufficio con i famosi poteri d'ufficio questa è una cosa su cui si deve intervenire scusa Fabio ma su questo non ti voglio interrompere lui mi interrompe sempre facciamo Gianni e Pinotto stai parlando assai allora stai sereno stai sereno no stamattina però il procuratore Pignatone ha detto una cosa che secondo me andrebbe un po' approfondita anche criticamente ne dobbiamo discutere le misure di prevenzione sono parassitarie del processo penale giusto cioè non esistono non possono esistere misure di prevenzione se non c'è un processo penale nel senso che se non c'è già stata si è accumulata un'attività di indagine da cui puoi trarre gli spunti su questo dobbiamo ragionare cioè noi immaginiamo per il futuro una poi lo chiederò ovviamente anche anzi non lo chiedo a te cioè anzi questo è un intermezzo per rispondere cioè mi stai togliendo la parola no no lo dirò a Stefano no 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 poi tu continui ci stiamo arrivando ma il senso è allora ci stavo arrivando però veloce allora ci stavo arrivando però questi questi 30 secondi me li recuperi me li abboni e perché assente il pubblico ministero perché è giusto è vero che il processo di prevenzione è parassitario tra virgolette del processo penale e ci mancherebbe perché ovviamente sono elementi che nascono da indagini penali però il processo di prevenzione deve arrivare là dove il processo penale non arriva se no ci basterebbe la confisca penale col 12 sexes e se siamo tutti contenti facciamo una bella sanzione mi dimostri la sproporzione c'è già col 12 sexes allora la diretta conseguenza sarebbe siccome l'Europa perché era una direttiva europea che ce l'ha imposto ci ha imposto la confisca allargata col 12 sexes per sproporzione allora la diretta conseguenza sarebbe le misure di prevenzione non servono più a niente aboliamole non è vero le misure di prevenzione completano laddove il processo penale non può e non deve non deve arrivare perché è un'altra cosa è un'altra cosa si incide sul patrimonio e con elementi concreti allora il pubblico ministero ovviamente non è che mi deve fare né indagini parallele ci mancherebbe se noi entriamo in concorrenza no però individuiamo delle regole di coordinamento serie la potrebbe intervenire anche il CSM con i poteri regolamentari del caso potrebbe intervenire il legislatore però interveniamo su questo non creiamo delle indagini preliminari in commissione fiandata si discuteva non ci serve un nuovo processetto se no rischiamo di fare il piccolo il fallimento diciamo quello che è stato in parte la 231 abbiamo costruito un modellino bellissimo che però ancora dopo 10 anni 12 anni 13 anni forse sta muovendo i suoi primi vagiti ora però 12 anni fa è stata varata la 231 e allora dico creiamo però dei modelli di coordinamento tra questo diamo al pubblico ministero i poteri per incidere su questo e per dialogare in maniera virtuosa sul tribunale tribunale la commissione fiandata ha fatto alcune proposte di adeguamento citazione poteri di accertamento del tribunale regolamentazione della raccolta della prova oggi il codice antimafia ti dice il processo deve essere breve una delle critiche che vengono mosse al processo di prevenzione ma queste confische quanto durano 16 anni 20 anni 30 anni cassazione appello non è possibile giusto per sintesi la commissione fiandata ha cercato di dare una veste di rito a un'indicazione che già c'era dal codice antimafia perché quando il codice antimafia ti dice un processo di prevenzione in primo grado non può durare più di un anno e mezzo prorogabile di un altro anno e lo stesso in appello vuol dire che va fatta un'attività e tutti sappiamo che l'attività probatoria nel processo di prevenzione inizia il giorno dopo il sequestro quasi perché se andessimo a fare un compitino per il DEMS la prossima puntata andare a vedere su che cosa si fondano i decreti di confisca sugli elementi che erano stati posti a base nel sequestro no anche su quello ma lo scarto tra il decreto di confisca e il decreto di sequestro scopriremo io parlo per esperienza empirica che nell'80% dei casi i decreti di confisca sono fondati su elementi che sono venuti fuori dopo il sequestro perché il sequestro è un atto tra virgoletta sorpresa interviene su una situazione particolare in cui lo stesso pubblico ministero ha difficoltà a raccogliere elementi perché gli elementi si entra quando tu entri nell'impresa e allora noi dobbiamo assicurare un adeguato livello di bilanciamento tra garanzie ed efficienza in questa fase delicata solo così potremo ottenere dei provvedimenti solidi e motivati l'ultima cosa questi 30 secondi di recupero due cose sole volevo dire pericolosi semplici dico perché sono state evocate oggi Raffaele Cantone ha detto una cosa giusta le misure antimafia sono strumenti straordinari usiamole per fatti straordinari io dico con altre parole sempre la confisca di prevenzione è una bomba intelligente però facciamo sì che sia veramente una bomba intelligente non come quelle bombe intelligenti di qualcuno che poi vanno a colpire gli ospedali usiamola in maniera mirata e allora riflettiamo sulla riforma del 2008 esteso anche i cosiddetti pericolosi semplici non anche i mafiosi ci sono delle esperienze giurisprudenziali non è giurisprudenza consolidata come è stato detto stamattina che provano a estendere lo strumento patrimoniale anche contro gli evasori fiscali i corruttori e quant'altro guardiamo con attenzione perché è ovvio che non si può perseguire chiunque tutti i corruttori tutti però una cosa con le misure di prevenzione non si perseguono reati non si persegue la singola condotta ma si perseguono delle manifestazioni di pericolosità cioè qualcuno che nel tempo in maniera seriale ha mostrato di essere socialmente pericoloso quindi cosa vuol dire che è ovvio che la misura di prevenzione nei confronti del pericoloso semplice non può essere rivolta a quello che si è reso responsabile del singolo episodio di corruzione per quanto grave possa essere però al pubblico funzionario che per dieci anni in un certo ufficio ha praticato corruzione ci possiamo pensare all'evasore grandissimo che per un n numero di anni ha evaso pensiamo costruiamo l'elemento un'ultima cosa ultimissima vero siamo di fronte a una scadenza importante che è il semestre europeo non voglio dire cose scontate però noi non possiamo presentarci noi come paese al semestre europeo con un sistema prevenzionistico generale ancora in fase di manutenzione ancora con delle incertezze perché è vero quello che ha detto Rodolfo Sabelli lo condivido regge in Europa è costituzionalmente compatibile e quant'altro però è un sistema che deve essere migliorato e allora miglioriamo questo sistema e interveniamo subito non so se è meglio un decreto legge il disegno di legge però sicuramente prima della scadenza del semestre europeo l'Italia può e deve presentarsi con le carte in regola avere un proprio sistema di intervento patrimoniale e allora si ti puoi sedere al tavolo e chiedere l'ultima battuta a questo punto all'Europa di fare una direttiva dell'Unione Europea ispirata al modello italiano ma che dobbiamo presentare sulla confisca senza condanna sulla prevenzione delle infiltrazioni perché un'altra cosa confusione giornalistica tutti parlano la direttiva dell'Unione Europea sulle confisca senza condanna nessuno sa che è una direttiva che ha uno spazio di azione limitatissimo su cui l'Italia si è già adeguata perché prevede solo la confisca penale la prevenzione dell'infiltrazione nell'economia illecita è un'altra storia tutta da costruire a cui spero che il nostro paese possa contribuire grazie bravo Fabio anche se non tutto riesco a condividerlo intanto intanto ringrazio e saluto il procuratore di Palermo Francesco Messineo che ci ha raggiunto il procuratore ha raggiunto Teresa Principato io però sulla questione 231 Sabelli ha le spalle abbastanza larghe mi devo permettere un'altra ma voi sapete che nei primi anni dell'introduzione 231 in molte procure d'Italia non c'era neanche il registro apposito per iscrivere ecco allora stamattina si è detto fermo biologico il legislatore perché perché noi stiamo cominciando a pensare che il legislatore o sbaglia totalmente strada come aveva fatto il senato della repubblica con quella con quel mostro di norma che neanche nel ventennio nazista si riuscì a escogitare ventennio fascista vabbè promesso tu sei esperto tu sei esperto del settore nel ventennio fascista però altre volte addirittura va troppo avanti rispetto alla cultura giuridizionale la 231 è troppo avanti probabilmente rispetto alla cultura dei magistrati italiani medi cosa chi legislatore del 2001 sì no probabilmente ecco c'è anche responsabilità dell'accademia perché se si consegnano al Parlamento prodotti troppo raffinati probabilmente il sistema non li regge la 231 è uno strumento straordinario lo è dal 2001 dal 2009 ma noi abbiamo avuto difficoltà ci sono i miei colleghi del Dems abbiamo girato un po' l'Italia su queste questioni e non lo sapevano né i procuratori né le aziende che i reati di criminalità organizzata erano diventati i reati presupposti alla 231 questa è una cosa drammatica perché la 231 ha una funzione pedagogica veramente quasi l'archetipo della prevenzione generale del diritto penale cioè noi vorremmo che la 231 fosse applicata poco ma perché già le aziende si organizzano nel senso che tarano la loro capacità produttiva anche sul registro della legalità questo non è accaduto da Confindustria io ancora aspetto dopo la battaglia straordinaria contro il pizzo una battaglia per riorganizzare l'azienda su questo fronte